mercoledì 19 maggio secondo appuntamento con qui l'icata tg vediamo subito le notizie l'icata è una città splendida e a dirlo non siamo certo noi ma sempre più spesso chi arriva qui e trascorre qualche giorno di vacanza rischiamo però di perdere un importante patrimonio è quello dei murales del quartiere marina vere e proprie opere d'arte che dal 2015 e per circa tre anni sono state realizzate da artisti giunti da ogni parte d'italia grazie al gruppo di giovani di catesi niente cambia niente le intemperie purtroppo stanno cancellando quei murales e allora rivolgiamo un appello alle istituzioni alle città alla città e soprattutto ai giovani non sarebbe il caso di mobilitarsi per salvare questo patrimonio facciamo il punto nel servizio metti in moto i tuoi sogni con auto dna ti aspettiamo nel nuovo showroom con la più ampia scelta di vetture multimarca auto dna alicata in via gela 318 niente cambia niente è così che si chiama il gruppo un gruppo spontaneo di giovani che qualche anno fa letteralmente ha trasformato il quartiere marina realizzando dei murales straordinari veramente belli molto significativi ognuno ha un significato diverso di importante c'è che questi ragazzi il lavoro lo hanno fatto completamente gratuitamente senza chiedere un euro a nessuno ospitavano gli artisti che trascorrevano qualche giorno di vacanza alicata e per ricambiare l'ospitalità realizzavano questi meravigliosi murales quello che alle mie spalle è l'ultimo realizzato dedicato a rosa balistreri ed è purtroppo quello in peggiori condizioni lo vedete quasi scomparso allora vogliamo lanciare un appello qui dalla marina ci troviamo in via don agnese nel cuore del quartiere antico di ricata vorremmo che ci fosse qualcuno magari a cominciare proprio dai ragazzi di niente cambia niente che recuperasse queste questi murales vorremmo che la marina ma la città intera si mobilitasse per fare in modo che questi straordinari dipinti su muro che ormai da qualche anno a caratterizzare il quartiere marina non scomparissero la cronaca giudiziaria i genitori del bambino di tre anni di palma di monte chiaro deceduto il 12 maggio del 2019 hanno chiesto all'asp di agrigento e a due medici del pronto soccorso dell'ospedale san giacomo d'alto passo di ricata un risarcimento di 800 mila euro per la morte del figlio i genitori sono rivolti infatti al tribunale civile di agrigento il papà e la mamma del piccolo sostengono che il loro figlio tra gennaio e maggio del 2019 venne visitato in un ambulatorio privato dove gli venne diagnosticata una faringite ma la cura prescritta non diede esito la stessa diagnosi sarebbe stata confermata l'11 maggio al pronto soccorso di ricata il piccolo venne dimesso ma l'indomani secondo l'accusa morì per una polmonite interstiziale la parola ora passa ai giudici civili i contagi diminuiscono sensibilmente a ricata e tiriamo un sospiro di sollievo certo nessuno può giurare che presto non torneranno a salire vertiginosamente ma intanto l'attualità dice che siamo a quota 186 mentre sabato scorso i positivi nella nostra città erano ben 202 e da stasera finalmente consentiteci di dire il coprifuoco slitta alle 23 allora facciamo il punto della situazione del covid 19 allicata in questo servizio vediamo per migliorare i tuoi spazi interni ed esterni vieni da antona dove trovi tutto per il fai da te la casa e il giardino passa a trovarci o scegli di acquistare comodamente su antona punto it il covid 19 allicata in ritirata ormai non lo diciamo più non vorremmo essere smentiti nella stessa giornata di oggi da un improvviso aumento dei casi di contagio il dato di stamani però lascia ben sperare la polizia municipale che da quando è scoppiata la pandemia aggiorna quotidianamente la situazione ha annunciato che ieri ci sono stati ben nove guariti e soltanto quattro nuovi tamponi positivi grazie a questi numeri le persone in isolamento obbligatorio perché alle prese col covid 19 diminuiscono sensibilmente oggi siamo a quota 186 un bel risultato soprattutto se si considera che lo scorso sabato i positivi allicata erano ben 202 nel giro di quattro giorni dunque abbiamo assistito ad un sensibile diminuzione dei positivi certo nulla ci dice che i casi non torneranno ad aumentare però la riapertura della scuola guglielmo marconi dopo che i tamponi eseguiti su studenti e insegnanti sono risultati negativi e il fatto che il governo ha concesso di far slittare il coprifuoco da stasera alle 23 sono una bella inizionale di fiducia e poi le temperature almeno allicata sono già estive e si sa che il virus non sopporta il caldo andiamo avanti con fiducia dunque scopri tutta la bontà dell'autentica pasticceria siciliana da artigian creme una dolce coccola da regalare e regalarsi artigian creme passione e gusto dal 1986 una bella notizia il castello chiaramontano di palma di monte chiaro è tra le location scelte dal leggista paolo ottaviani per girare alcune scene del suo ultimo film leonora addio che racconta episodi della vita di luigi piranello le scene al castello che si trova in contrada capreria a strapiombo sul mare un posto meraviglioso saranno girate proprio oggi poi altre scene verranno girate nei luoghi del caos nella casa natale di luigi piranello il distretto turistico valle dei tempi di agrigento ha espresso soddisfazione per le scelte del maestro taviani cambiamo decisamente argomento non decolla malgrado le sollecitazioni del vvf l'intitolazione della villa messico allicata a franco galia storico ambientalista alicatese purtroppo scomparso prematuramente ormai alcuni anni fa intanto grazie al vvf che l'ha avuta affidata negli anni scorsi la villa in questione è letteralmente rinata purtroppo però le brutte abitudini e lo scasso senso civico sono due a morire abbiamo intervistato gino galia responsabile del vvf due giovanissimi neocomponenti dell'associazione che rivolgono un appello ai loro coetanei vediamo le interviste sì noi abbiamo avanzato in pratica la pratica nel 2017 ancora oggi non sappiamo niente però abbiamo preso questa villa perché in pratica abbiamo fatto delle riunioni con l'ex amministrazione campiano che ogni associazione doveva prendere in custodia una villetta c'è un corpo verde urbano abbiamo scelto questa perché era la più la più nuda cioè come una cosa la devi costruire per lui l'abbiamo costruita per lui anche se l'indicazione ritarda ma noi aspettiamo sempre purtroppo il vandalismo e la mancanza di senso civico sono sempre presenti hanno sradicato letteralmente alcune panche immaginiamo dei giovani non le hanno danneggiate le hanno messe in circolo quasi per fare una sorta di salottino e voi la cosa che aveva sorpreso è che accanto a questo salottino dove stavano era pieno di rifiuti sì sì infatti sono venuto un pomeriggio ho visto queste panche erano spostate spostate da decine di metri non da 5 centimetri trovato dei ragazzi seduti dicendogli se sapevano qualche cosa ma il fatto sta che erano seduti a chiacchierare a scherzare ma in mezzo alla spazzatura non c'è senso civico non c'è rispetto per niente noi volontari del WWF abbiamo da sempre a cuore il nostro paese Licata e stiamo sempre disposti a dare una mano per esso per farciosi ci siamo recati domenica mattina di buon'ora qua a Villa Messico per sistemarla e ripulirla dai rifiuti Villa Messico è una villa che è stata affidata nel 2016 dal nostro comune di Licata a noi del WWF è un motivo d'orgoglio fare parte dell'associazione come diciamo dell'associazione WWF proprio perché è una forma quella di sensibilizzare anche dare l'esempio sensibilizzare i ragazzi soprattutto tutti quanti ma soprattutto anche le nuove generazioni La politica La Commissione europea conferma nero su bianco a firma del commissario UEA i trasporti a Dina Vallean che il ponte sullo stretto di Messina è finanziabile con i fondi dell'Unione europea finalmente arriva la risposta ufficiale alla faccia di chi ancora pensa che non si tratti di un'opera importante o non finanziabile da Bruxelles a scriverlo in una nota è Annalisa Tardino, europarlamentare licatese della Lega L'Unione europea, aggiunge Tardino, afferma che il collegamento tra la Sicilia e l'Italia continentale fa già parte della rete transeuropea e dei trasporti e del corridoio Scandinavia-Mediterraneo e in quanto tale fa parte della rete considerata di massima importanza e valore aggiunto aggiunge che sarà possibile anche finanziare studi preliminari e attività di appalto all'interno di alcuni programmi dell'Unione europea nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 nonostante non rientri tra le tratte pre-identificate del programma del CEF II Continuiamo a raccontarvi le vicende dello sbarco alleato a Licata datato come tutti sapete 10 luglio 1943 abbiamo scoperto che non tutto di quella notte è stato scritto e che anzi gli episodi inediti sono ancora tanti vi proponiamo la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato nei giorni scorsi a Mollarella con la storica Carmela Zangara che di fatto sta riscrivendo la storia di quei giorni stavolta ci racconta che cosa ha scoperto rispetto alla fine che fecero i militari italiani che resistettero allo sbarco alleato vediamo l'intervista La storia è ancora da ricostruire cioè noi abbiamo rifatto la vicenda nelle linee generali e secondo le fonti documentarie librarie e adesso ci sono da sprucciare gli archivi in realtà definendo meglio tutte le vicende questo è un primo passo verso la definizione di quello che effettivamente successe a Mollarella a Mollarella, a Licata, nelle quattro spiagge da sbarco perché in realtà la favola corrente vuole l'esercito italiano passivo in realtà noi sappiamo che le cose andarono diversamente nel senso che la preponderanza di forze americane che qui sbarcarono evidentemente creò dei problemi ma sostanzialmente molti furono presi prigionieri i capi, cioè i tenenti, i capitani maggiori cioè i gradi, i graduati dell'esercito che non potevano, furono quelli che si arresero per ultimi se si arresero in massima parte furono presi prigionieri e qui io ho tabulato che ci furono tantissimi graduati da capitani maggiori e tenenti che furono presi prigionieri questi sono numeri certi tratti dall'archivio evidentemente risposero in qualche modo e attaccarono nei limiti in cui poterono ma poi dovettero in qualche modo arrentersi dietro la presa, diciamo la cattura da parte delle forze americane S'intitola Tina Montinaro Volevo una vita diversa la webinar che il Lions Club di Licata presieduto da Angela Licitra ha organizzato per il prossimo mercoledì 26 maggio alle 17.30 l'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi e sarà moderata da Gloria Incorpaia tanti gli interventi in programma in programma verranno illustrati i progetti che gli alunni della Marconi stanno portando avanti per diffondere la cultura della legalità con questa notizia chiudiamo qui l'edizione odierna di Quilicata DG ci rivediamo venerdì a presto